Ciao a tutti e a tutti e ben tornati a tutti e siamo tornati qui con delle bellissime storie da raccontare Ma questa volta andremo a parlare di una storia molto più particolare Andremo a parlare della storia di Adriano Martello in arte alias Maestro Ebbene si, siamo tornati a parlare delle storie dei personaggi di Rainbow raccontate semplicemente male Però questa volta non farò le vere storie che praticamente inventavo delle storie sui personaggi Quest'altro vi racconterò effettivamente la storia vera di questo personaggio, però oggi a modo mio Vi porterò, vi ricordate la settimana scorsa ho cominciato la storia di Kratos La continuerò, praticamente vi farò uscire la parte 2 penso quest'altra settimana Intanto oggi godetevi la storia di Maestro Adriano Martello nasce a Roma il 13 aprile 1973 Il più grande di otto fratelli, quindi diciamo che i genitori si sono dati parecchio da fare Entra a far parte dell'Accademia di Modena Ecco una storia Un uomo spara con un fucile per molti anni E va in guerra In seguito restituisce il fucile all'armeria E pensa che non dovrà mai più usarlo Ma qualsiasi cosa quell'uomo farà con le mani Le sue mani ricorderanno quel fucile Voi non siete più neri o marroni o gialli o rossi Voi adesso siete verdi E va bene cervello pieno di sperma Fammi vedere esattamente dove vanno le mutande e le scarpe da ginnasti Da recoda non riesci a pensare mentre l'istruttura la colpisce in testa signore Non riesci a pensare mentre ti do un po' di buffetti affettuosi Mi domando come cazzo farai a sparare col fucile Quando le granate ti esploderanno in faccia Una volta terminata l'Accademia Sarà entrato a far parte del corpo dei carabinieri E poi subito dopo entrerà nei GIS Il reparto gruppo intervento speciale italiano Verrà spettito in Iraq Dove si distinguerà per le sue grandi doti E riceverà medaglie e premi al valore Le sue peripezie non finiscono qui Infatti trascorso questo periodo Verrà mandato come peradio nelle varie azioni di violenza domestica in Italia Ma con ma sai di che? È capito che le devi togliere Di tua madre Ma lento lento Perché tua madre sai che cos'è? È una gran ruffiata Mi metto una firma qui per cortesia Perché io ho ricapitato il pacco E la firma è la conferma della venuta pacco stesso La madre è una grande sacco Sì sì Una piccola firma È una formalità Non ce la prenda così Visto il suo valore e le sue capacità Maestro si dedica alle consulenze private Ed all'addestramento Dell'unità di terzo livello italiane Diventando istruttore I metodi di martello non sono molto apprezzati Infatti criticati per la violenza E le parolacce utilizzate Ma altrettanto ritenuti veramente molto efficaci Lui riuscirà a motivare gli soldati Come nessuno aveva fatto prima Da questo momento potete parlare soltanto Quando vi sarà richiesto E la prima e l'ultima parola Che dovrà uscire dalle vostre fogne Sarà signore Tutto chiaro Luridissimi vermi Sì sì signore Ma che cazzo non vi sento Rispondete come se ne avesse davvero Sì sì signore Se voi signorine finirete questo corso E se sopravviverete all'addestramento La più bassa forma di vita che ci sia nel globo Non siete neanche fattuti esseri umani Sarete solo pezzi in formi di materia organica Antibia comunemente detta merda Finito il periodo d'addestatore si orrola nuovamente Nella compagnia paraglottisti Tuscania E così facendo continuerà la sua carriera E potrà entrare a far parte Finalmente di Rainbow Six Siege Infatti ragazzi questa era la biografia di maestro Se volete degli approfondimenti Vi metterò il link in descrizione Per quanto riguarda proprio tutta la biografia E i tratti psicologici decidi del personaggio Mi raccomando guardatevi anche tutte le storie Che sto raccontando Kratos di Fortnite di PUBG E cose varie Se vi farà piacere Mi raccomando condividete il video Con i vostri amici E lasciate un bel like Con sono tutti la vostra Commodore Wolf Ciao a tutti ragazzuoli Ciao a tutti